Oggi parte lo screening dedicato agli studenti e al mondo della scuola in vista della riapertura del 10 gennaio. Uno screening però dal quale sono stati esclusi i più piccoli, cioè i bambini, delle scuole dell'infanzia. I genitori della scuola De Albantis hanno scritto anche una lettera alle istituzioni per protestare su questa scelta. Quali sono le vostre ragioni? Allora, innanzitutto ci sembrava doveroso dare voce a questa fetta che è stata esclusa dallo screening. E soprattutto ci teniamo a ribadire un concetto, cioè la fascia 3-5 è una fascia espostissima perché non utilizza dispositivi di protezione individuale ed è comunque a forte rischio di contagio perché ha un contatto molto ravvicinato con il corpo docente e con il personale dell'istituto scolastico. Vi dico solo che nella classe dei tre anni ci sono più di cinque anticipatari che portano ancora il pannolino, vanno imboccati durante il pranzo e quindi vanno accompagnati in maniera ancora più importante in questo percorso. Chi ha organizzato questo screening, cioè Regione, Asli e Comuni, hanno sostenuto che non ci fossero tamponi a sufficienza per poter inserire anche la scuola dell'infanzia. Ma i numeri quali sarebbero? Sinceramente io non conosco i numeri esatti, però ritengo che in questo senso fare uno sforzo significava tutelare davvero la popolazione scolastica, le istituzioni, anche perché per quanto riguarda l'infanzia non esiste la DAD e quindi esisterebbe semplicemente un blocco delle attività didattiche e quindi proprio perdere una possibilità formativa per i nostri bambini che in qualche modo comunque rappresentano il futuro per cui vanno tutelati in qualche modo. Siamo intenzionati comunque in qualche modo a fare uno screening anche in maniera privata, però riteniamo che questo sia discriminatorio perché va a gravare sulle famiglie in un senso economico ma anche organizzativo perché ripeto al momento è molto difficile prenotare un tampone, i tempi sono strettissimi e non ci aspettavamo di essere esclusi da questo screening, quindi ci tenevamo a far sentire la nostra voce, a ribadire alle istituzioni che questa scelta è un po' discriminatoria.